Era alla fine degli anni 90 quando un gruppo di volenterosi studenti di Isola del Piano si era messo a disegnare e realizzare tra i banchi di scuola la scenografia per una commedia. A dirigere ed insegnare l'arte ai giovani era il maestro artista Sergio Carboni, grazie al quale era stata data una perfetta ambientazione alla commedia dialettale El Spacamonte, messa in scena in quella che allora era la scuola media di Isola del Piano, oggi trasferita a Monte Felcino. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.